Una misura contro l'abuso di alcol ma anche per garantire ordine e pulizia ambientale. L'ordinanza antidegrado firmata a fine agosto dal sindaco Gianluca Zattini prometteva un giro di vite sui bivacchi nei parchi e lungo le strade del centro di Forlì. Nella stessa direzione cammina l'assunzione di 15 nuovi agenti di polizia municipale anche per garantire turni continui dalle 7 alle 19. Ecco allora che nei giorni scorsi sono scattate le prime sanzioni a quattro stranieri che stavano bevendo alcol in piazza Montegrappa. Anche al parco Morvillo sono state pizzicate tre persone ma non è stato possibile applicare l'ordinanza perché valida solo per il centro storico anche se è stata staccata una contravvenzione più aspra per via dell'introduzione di bottiglie di vetro all'interno di un'area verde. Il tema largamente dibattuto finirà anche al centro di un'apposita modifica del regolamento di polizia urbana che introdurrà nuove misure come la diffida amministrativa e il daspo vietando l'accesso ad apposite zone della città ai soggetti rei. La votazione in consiglio comunale dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.